Bene Naufraghi, rettifichiamo subito il video precedente che era un video fatto nell'impulso dell'emozione. Vediamo subito la prova al polso del Comandinsky. Il numero di referenza è 43 17 83 barra 22, monta un motore a carica manuale il 2414A. Stiamo parlando di un orologio quindi veramente retro. Cosa dire? Ripetiamo carica manuale, complicazioni della data, tre sfere coassiali con quella dei secondi, la sfera dei secondi rossa, doppia numerazione come ogni vero field watch che si rispetti. Veramente comodo al polso anche se questo cinturino è molto criticato. Io lo trovo molto più comodo per esempio del cinturino in cauccio del mio Citizen Eco Drive che ho dovuto sostituire però probabilmente anche questo cinturino verrà sostituito con un nato in stoffa. È arrivato in 30 giorni estremamente puntuale nel senso che dalla Russia arrivano sempre in 30 giorni. L'ho ordinato il 27 di... il 27 di... il 29 è partito dalla Russia. Allora quali altri dati emergono? Data di produzione dell'otto 12 03 2021 quindi veramente attualissimo. L'orologio è veramente leggero anche se in bronzo si porta come un plasticone. Movimento meccanico di manifattura e il costo irrisorio dell'orologio è dovuto semplicemente al fatto che è una produzione industrializzata. Non c'è investimento nella ricerca. È un movimento molto datato ma affidabile e robusto. La Vostok garantisce dieci anni di funzionamento se non li garantisce però diciamo che dichiara che queste macchine lavorano tranquillamente per almeno dieci anni senza diciamo mano d'opera, senza revisione. Poi chiaramente se uno si affeziona all'orologio nulla gli impedisce di revisionarlo anche se il costo di una revisione supera il costo della macchina. Il vetro è organico, un plessiglass più sottile chiaramente dei plessiglass da subacquea quindi da Comandinsky serie 65-35 oppure gli anfibia che hanno un plessiglass molto più grosso tenete conto che quelli sono dichiarati subacquei fino a 200 metri mentre questo è dichiarato semplicemente impermeabile nonostante che abbia ghiera serrata a vite e fondello serrato a vite. Molto carina la doppia numerazione che garantisce una facile lettura è la lancetta rossa dei secondi. La finestra della data è generosa io adesso non riesco a metterla a fuoco ed è bianca con numeri scritti in nero e cos'altro dire nulla i posteri lardo a sentenza adesso ce lo teniamo al polso per un po' di tempo e poi poi magari farò vedere come starà con un cinturino nato. A presto, arrivederci!